Presente a Villa Reale per la cerimonia di restituzione della scultura trafugata, anche lo studioso Guido Tigler, che per primo attribuì l'opera alla mano dell'artista Tino di Camaino, attraverso la pubblicazione intitolata Una testa a Marlia, realizzata nel 1991, quando Tigler si imbattenne la scultura durante la stesura della propria tesi. La testa di Marlia faceva parte di una raccolta di sculture antiche, in gran parte trafugate nel 2014, murate nelle pareti del portico della Villa del Vescovo. La sua collocazione originale era però verosimilmente nel gruppo dei consiglieri che contornavano la statua in trono dell'imperatore Arrigo VI di Lussemburgo, al tempo unita al sarcofago col gisant dell'imperatore medesimo, conservato nel transetto sud della cattedrale di Pisa, che venne smembrata alla fine del Quattrocento. La soprintendenta dei beni culturali, Angela Cordon, ha sottolineato l'importanza di questo ritrovamento. Ovviamente siamo anche in presenza di un artista molto importante, Tino di Camaino, io dico sempre che è l'artista che ha smorzato l'urlo di Giovanni Pisano e lo ha portato anche nel sud Italia. e lo ha un po' edulcorato perché Giovanni Pisano è stato uno dei più grandi artisti di tutti i tempi, secondo me pari a Caravaggio, scusate il parallelo un po'. E quindi anche dal punto di vista storico e culturale è molto importante. Poi c'è questa ipotesi che ha fatto il professor Tigler di riconnetterlo al monumento di Pisa e quindi è ancora più importante. Adesso la scultura verrà custodita all'interno di Villa Reale, verosimilmente in una collocazione controllata, ma accessibile a visitatori della villa.